È stata approvata la legge delega per quanto riguarda la pubblica amministrazione che contiene anche i famosi tagli alla sanità. Quali saranno i riflessi per la nostra Regione? Intanto la Regione, per far fronte alla riduzione dell'aumento del Fondo Sanitario Regionale quest'anno, che consta di 44 milioni di euro per la Regione Abruzzo, ha già messo in campo una serie di iniziative, tutte regionali. In realtà alcune corrette leve che vengono individuate nel decreto enti territoriali che riguardano appunto le leggi del governo del Paese sono e saranno soprattutto a valere dal 2016. L'anno 2015 è quasi concluso dal punto di vista dell'esercizio economico e finanziario e quindi abbiamo fatto da noi. L'anno prossimo e nella conclusione del 2015 cominceremo ad avvalerci degli strumenti che vengono adottati da questo decreto. Cosa succederà in concreto per far capire ai cittadini? Due intanto, sono le leve che a mio avviso sono certamente quelle più visibili, comunicabili, percepite, che sono assolutamente in vista. Quella in relazione alla inappropriatezza, e quindi ridurre l'inappropriatezza credo che dia più sanità o una migliore qualità del servizio erogato allo stesso tempo con meno costi. E dall'altro lato la contrazione e la riduzione nella contrattualistica dei beni e servizi, potendo rivedere al risparmio la stessa erogazione dei cosiddetti servizi, gli appalti, le forniture. Io credo che si vada verso una corretta direzione che soprattutto nel 2016 procurrà un giusto risparmio, non sulle spalle dei cittadini, ma su un miglioramento dell'efficienza del servizio erogato e dall'altro nell'utilizzo migliore delle tasse dei contribuenti.